Musica Rifinitura in mattinata per la Fiorentina all'interno del centro sportivo, un modo per concentrarsi e anche oltre che far mulinare le gambe in vista della gara contro l'Inter che inizierà alle 20.45 al Franchi. Vincenzo Montella lavora sul lato psicologico oltre che su quello fisico e naturalmente su quello tattico. A bordo campo c'è il patrono Andrea della Valle, insieme al presidente Mario Cognini c'è tutta la dirigenza con il DS Fradè, con il direttore tecnico Massia e l'amministratore delegato Sandro Mencucci, tutti vicini insomma a fare gruppo in vista della partita. Sul terreno di gioco per provare anche le soluzioni su palla inattiva nella seconda parte dell'allenamento che è durato all'incirca un'ora, poi di nuovo tutti in ritiro e quindi intorno alle 19.45 questa sera l'arrivo allo stadio Franchi, poi ci sarà Fiorentina Inter. Grazie a tutti!